Vivo cordoglio e incredulità dopo la drammatica notizia della morte di Camilla Pettinari, studentessa di Quinta Superiore dell'Istituto Leonardo da Vinci di Bergamo. La giovane è deceduta sul colpo dopo essere stata investita da un'auto a Pozzo d'Adda nel milanese, ferita a un braccio anche la sua amica Aurora, coetanea, che frequenta lo stesso istituto. Erano le 8.30 di venerdì 25 marzo, le due diciotteni viaggiovano in sella alle rispettive moto che la vettura, una Opel Zafira condotta da una 59enne rimasto pressoché illeso, ha travolto, sembrerebbe, ma su questo ancora è in corso l'accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Vaprio d'Adda dopo essere uscita contro mano da una strada a senso unico. L'automobilista ha urtato prima la moto di Camilla e poi quella dell'amica. L'incidente è avvenuto in via Leonardo da Vinci, la stessa strada dove lo scorso 8 marzo in un altro incidente stradale aveva perso la vita Emanuela Rubini, impiegata a 55enne che lavorava proprio a Pozzo, in uno studio di commercialisti e che abitava a Terno d'Isola. Camilla, come l'amica, abitava invece a Pozzuolo, comune della Martesana che dista una quarantina di chilometri da Bergamo. Alle 12.45 di venerdì l'intero istituto ha osservato tre minuti di silenzio. Dopo lo schianto in via da Vinci a Pozzo sono arrivate le mamme delle due studentesse. Il corpo senza vita della 18enne è stato trasportato all'obitorio di Milano dove nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. La data dell'ultimo saluto a Camilla Pettinari non è ancora stata decisa, i funerali saranno comunque celebrati nella parrocchiale di Pozzuolo Martesana e per quella triste occasione tutti i compagni del Leonardo da Vinci e i loro docenti saranno presenti per l'ultimo abbraccio alla loro cam.